Spianto in a 14 domani a Lucrezia di Cartoceto e i funerali di Michele e Giovanni Ascione. Carenza di medici e la regione stanzia oltre 6 milioni di euro per le borse di studio e contratte di formazione. Per aggiunta a Quaroli si tratta di una svolta che supera le criticità lasciate da una scarsa programmazione passata. Emergenza idrica, i cittadini fanno scorta nelle docce delle spiagge e nelle fontanelle pubbliche della città. L'assessore fanese Barbara Brunori da mandato all'ufficio competente per trovare una soluzione. Nuova rotatoria a Rosciano di Fano. Da domani cambia ancora la viabilità. Da giovedì la strada verrà riaperta al traffico per realizzare il secondo mini rondò. È incredibile, è assurdo. Giorgio Francolini torna alla carica e critica le modifiche alla viabilità alla trave di Fano. Il residente chiede un sopralluogo agli amministratori locali e lancia un appello per cercare un supporto di un avvocato. Io sono di sinistra da una vita, ma non vedo l'ora che questa amministrazione ha ammesso che sia di sinistra dalla casa. Cari telespettatori, buonasera e bentornati a Occhio alla Notizia. Come avete potuto sentire dal nostro sommario, si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Apolinare a Lucrezia di Cartoceto. I funerali di Michele Giovanni Ascione, padre e figlio di 57 e 32 anni, morti nel tragico incidente avvenuto domenica mattina lungo l'autostrada 14. I due imprenditori erano diretti a Senigallia, dove avrebbero dovuto verniciare lo scafo di uno yacht giunti all'altezza di Marotta. Una Toyota Yaris, condotta da una ragazza, avrebbe urtato la lancia con a bordo padre e figlio e un loro collaboratore. La vettura si è poi capotata più volte, tanto da farli sbalzare fuori dall'abitacolo. Per Michele e Giovanni, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Un altro grave incidente invece è accaduto questa mattina nei pressi di un cantiere sulla strada statale 76 Valdesino a Monte Roberto, in provincia di Ancona. Intorno alle 13 un furgone in transito ha tamponato un altro mezzo furgonato che segnalava la presenza di un operaio al lavoro. A causa dell'urto, il furgone della ditta, incaricata dei lavori, si è ribaltato investendo l'operaio a piedi. Quest'ultimo, un 45enne di origine ucraina, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette di Ancona. Nello scontro sono rimasti feriti anche il 36enne, che era la guida del mezzo che si è ribaltato, e il 28enne a bordo del furgone che ha innescato l'investimento. Passiamo alla carenza dei medici di base e degli specialisti, perché la Regione Marche dà una svolta a sistema sanitario, stanziando 6,6 milioni di euro per le borse di studio e per i contratti di formazione. La carenza dei servizi sanitari è proprio legato alla scarsità del numero dei medici. È un piano che garantisce per i prossimi anni il superamento delle criticità registrate per la scarsa programmazione passata. Siamo certi che avremo medici in grado di lavorare sul territorio con una inversione di tendenza totale. Lo ha dichiarato l'assessore alla sanità Filippo Salta Martini al termine della conferenza stampa, in cui sono stati annunciati 6 milioni e 608 mila euro per portare a 110 le borse di studio per i medici di medicina generale e a più di 40 i contratti di formazione per i medici specialisti. Obiettivo? Combattere l'impoverimento professionale e favorire il ricambio generazionale del sistema sanitario. Il tema delle borse di specializzazioni riguarda anche la scarsa appetibilità di alcune tipologie, quali sono le medicine d'urgenza, il 118, anche gli stessi medici di medicina generale. È per questo che accanto allo sforzo che la Regione compie attraverso le sue risorse è necessario che il tavolo di contrattazione collettiva nazionale preveda un aumento di emolumenti, di trattamenti, di queste prestazioni, perché altrimenti la risposta potrebbe essere una risposta che parte molto fiacca. Questa mattina ho sollecitato il Presidente Laran ad avviare il tavolo per rivedere i trattamenti, alcune prestazioni, tipo quelle notturne, festive, quelle dei pronti soccorsi del 118, perché appunto la scarsa appetibilità di queste specializzazioni può comportare anche il fatto che non vi siano adesioni a questi trattamenti previsti con le borse di specializzazione. Con questi interventi la Regione Marche, dagli ultimi posti, sale ai primi posti della classifica nazionale dei contratti a finanziamento regionale in rapporto al numero di abitanti. Con questo aumento delle borse andiamo a recuperare un differenziale che vedeva i medici che andavano in pensione come numero molto più elevato rispetto ai medici che entravano nel circuito della nostra medicina territoriale e nelle nostre reti ospedaliere. È chiaro che dalle borse all'ingresso nelle strutture passa un periodo che è circa di un anno, ma si interrompe dall'anno scorso in realtà con la medicina generale un trend che andava ad aumentare ogni anno questo differenziale. Nel dettaglio, al fine di incrementare le borse di studio per il corso di formazione specifica in medicina generale, la Regione stanzia complessivamente 1.750.000 euro di risorse proprie del bilancio, oltre al fondo sanitario. Invece, per i contratti di formazione per medici specialisti, stanzia più di 4.900.000 euro. Fondamentale, la collaborazione dell'Università Politecnica delle Marche. Attualmente i dati del Ministero parlano per il nostro Ateneo di 901 borse e sono ancora in atto le iscrizioni. Ma per la prima volta la Regione ha aggiunto un numero molto consistente, passando dalle 5, 4, 6 borse annuali a 42 borse. E tutto questo è stato fatto in collaborazione con il nostro Ateneo, in particolare con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e con il Professor Mauro Silvestrini, che ne è il Preside. Proprio perché offriamo in questo modo nuove opportunità anche alle nostre studentesse e ai nostri studenti diventati medici. Quindi credo che si tratti di una risposta alle nostre comunità, ai nostri territori, a questa esigenza di salute sempre più forte. Mancano i medici e dobbiamo intervenire. Tra l'emergenza in atto rientra sicuramente quella della siccità, mentre alcune regioni chiedono lo stato di emergenza per l'intero territorio e lo stato di calamità per l'agricoltura. C'è chi si porta avanti e fa la scorta di acqua. In questi ultimi due giorni alla nostra redazione sono arrivate diverse segnalazioni su avvistamenti di cittadini che facevano rifornimento nelle docce delle spiagge, ma anche nelle fontanelle pubbliche della città. Ad esempio a Sassonia di Fano un uomo è stato fotografato mentre riempiva le tanniche che aveva portato con sé. Un altro reporter ci ha detto che lo stesso scenario si ripete nella fontanella del parcheggio dei camper in Viale Kennedy. Il comune cosa intende fare? Ci ha scritto in un messaggio. E noi questa domanda l'abbiamo girata all'assessore Barbara Brunori, che si è subito attivata dando mandato all'ufficio competente, affinché venga trovata una soluzione il prima possibile. Non è escluso un sistema a gettoni. Intanto la capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio regionale, Marta Ruggeri, ha lanciato un appello al lato, l'autorità d'ambito, affinché inviti tutti i comuni della provincia di Pesero Urbino ad adottare subito le misure per contenere il consumo dell'acqua con ordinanze anticipate. E adesso ci occupiamo di viabilità, partendo dalla nuova rotatoria di Rosciano a Fano. Domani ci sarà un'ulteriore modifica che rimarrà in vigore fino a giovedì, quando verranno tolti i divieti di transito per proseguire i lavori sulla piccola rotatoria. Sentiamo allora i dettagli nell'intervista che Filippo Pucci ha realizzato al sindaco di Fano, Massimo Serri. Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria nel quartiere di Rosciano, più esattamente quella a ridosso del Codma. Un'opera molto voluta dagli stessi residenti e automobilisti che percorrono spesso questo tratto stradale, ormai diventato pericoloso e con incidenti anche gravi. Da inizio settimana gli operai sono a lavoro per l'asfaltatura dell'intera infrastruttura, con modifiche alla viabilità. Oggi sul cantiere, nuovo sopralluogo del sindaco di Fano. Sì, i lavori stanno procedendo molto bene, secondo calendario. Come vedete i lavori sono importanti. Purtroppo quando ci sono opere ci sono anche dei disturbi che si creano. Però da oggi alle 18 verrà riaperta la viabilità, venendo dal Codma verso Rosciano. Domani verrà invece chiusa la parte venendo da Bellocchi verso il Codma, fino a giovedì pomeriggio. Giovedì pomeriggio verrà riaperta tutta la viabilità e si potrà girare intorno alla nuova rotatoria, che ovviamente non è terminata, però la viabilità verrà ripristinata. Proseguiranno i lavori con la piccola rotatoria a fianco. Finito il lavoro dell'altra piccola rotatoria, che durerà una settimana circa, a quel punto verranno rinterrotti i lavori in tutto per un paio di giorni per finire e ultimare in modo definitivo il lavoro e inaugureremo dopo le nuove rotatorie, perché sono due. Dunque un'opera importante, una risposta alla città. Sì, questa come sappiamo è una zona ad alta intensità di traffico. È stato teatro purtroppo di tanti sinistri, anche tragici, quindi è veramente una risposta importante, tanto richiesta. Era un impegno che ci eravamo presi e oggi siamo qua a ultimare quest'opera. Devo ringraziare anche la ditta che sta lavorando, che sta lavorando molto bene, mantenendo tutti gli impegni e soprattutto anche le tempistiche. L'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha fatto un sopralluogo lungo la Fano Grosseto. Dopo la rimozione del manto bituminoso dei giorni scorsi, ha fermato l'assessore, proseguono con celerità i lavori di risanamento lungo la superstrada nel tratto tra Lucrezia e Calcinelli. Ieri sono iniziati i lavori di stabilizzazione con cemento dello strato di fondazione e contestuale controllo qualitativo dell'opera mediante un laboratorio qualificato. Grazie all'impegno di ANAS, ha concluso Baldelli, siamo a lavoro per restituire la sicurezza a questa importante arteria di collegamento prima dell'esodo estivo, come concordato con le categorie e con la filiera istituzionale. Torniamo a parlare della viabilità in via Trave a Fano perché dopo le proteste in strada il residente Giorgio Francolini lancia un nuovo appello sia agli amministratori locali sia ad un avvocato che possa aiutarli nella battaglia. È una cosa incredibile, credi? È una cosa assurda. I lamentele ad oggi non sono serviti a nulla, o quasi. Dopo il cambio di viabilità con rotatori e restringimenti di carreggiata è stato rimosso solo un piccolo dosso. D'altra parte, però, nonostante l'assessore Tonelli ne assicuri benefici con la diminuzione della velocità, alcuni residenti continuano a ribadire, a gran voce, che le modifiche apportate in via Trave sono pericolose per l'incolumità di automobilisti, pedoni e ciclisti. Tra loro Giorgio Francolini, che nei mesi scorsi aveva allestito anche una bancarella con i cimieli delle auto lasciati lungo la strada. Giorgio, ci ritroviamo ancora una volta a parlare di via Trave. Che cosa è successo in questi ultimi mesi? Ah, praticamente nulla. Non si vede un vigile da esattamente dieci mesi e undici giorni. Mai una pattuglia. E ne vedo tanti in giro per Fano. Lei ha fatto diverse proteste anche insieme ad altri residenti. Che cosa si sente di chiedere ancora? Quello che mi sento di chiedere sono tanti perché. Perché non hanno messo, come da noi richiesto, una telecamera? Perché non hanno messo pattuglie di vigili a fare prevenzione, non multe, prevenzione, per circa una settimana, dieci giorni, contro le moto, i motorini e le macchine. La velocità è eccessiva, il rumore è pazzesco. Bisogna chiudere le finestre e si muore dal caldo. Quindi è un'amministrazione che, vi viene da dire, se ne frega completamente, oltre che dei residenti, dei cittadini fanesi. Il traffico, infatti, secondo Francolini è maggiore nelle ore di punta, soprattutto in inverno, quando i genitori portano i figli a scuola. Dalle 7 alle 8 del mattino, dalle 11 a mezzogiorno per il rientro e così via, alle 19 alle 20. Non parliamo di sera, da mezzanotte in poi è una tragedia. Per i residenti è una vera tragedia. Vi siete rivolti a un avvocato? Ci siamo rivolti, ho chiesto a un avvocato e per la lettera ci è stata chiesta la somma di 800 euro. Tre, quattro cittadini, assieme a me, abbiamo detto no, la cifra è elevata. Quindi faccio un appello a un avvocato che prenda a cuore la situazione di Via della Trave. E che non mi faccia spendere una cifra, diciamo, spero abbordabile, magari anche gratis e lo ringrazio anticipatamente. Francolini poi si è rivolto agli amministratori locali. Ma io mi chiedo perché, ma dove vivono queste persone che amministrano la nostra città? Hanno fatto un progetto, l'assessore ha deciso, non è stata a sentire, ha continuato a fare di testa sua assieme all'ingegnere Ansuini. Ok, mi sta anche bene, sono loro che decidono, ma viene a vedere se quel progetto ha dato i risultati sperati. Non si è visto mai nessuno, mai nessuno. Il cemento sta, proprio viene portato via a pezzi ogni giorno. Ieri mattina con i nuovi vicini di casa, davanti a loro casa due cerchioni. Ha guardato, ha detto, ma non sono miei. Allora io passavo di lì, ho detto, guarda, qualcuno che è andato a sbattere contro lo spartitraffico, contro l'aiuola, e ha perso il cerchione, non si ferma neanche a raccogliere. Io sono di sinistra da una vita, ma non vedo l'ora che questa amministrazione, ammesso che sia di sinistra, vada a casa. Un in bocca al lupo agli studenti marchigiani impegnati nell'esame di Stato oggi è arrivato da Marco Ugo Filisetti, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. Il pensiero, ha scritto Filisetti, è rivolto ai 13.700 ragazzi marchigiani che da domani sostengono l'esame di maturità. Non abbiate timore nell'affrontare la prova, ha detto agli alunni, e non dubitate del vostro impegno, ricordando anche quello maggiore di chi vi ha preceduto, e varcata con l'esame, la porta d'ingresso alla strada che vi attende, rimanete fedeli a voi stessi, fate ciò che deve essere fatto senza tenere conto nel compiere il proprio dovere, delle prospettive di riuscita o di insuccesso, di perdita o di guadagno. Coltivate sempre ciò che è buono, nobile, giusto e bello. E ricordatevi, come scriveva un grande filosofo dell'antichità, che mentre si attende di vivere, la vita passa. Cambiamo argomento, accoglie al Metauro, il suolo pubblico è gratuito anche per il 2022. Il 31 marzo, ha spiegato il sindaco Pietro Briganti, si è concluso lo stato di emergenza che prevedeva la possibilità di concederlo gratuitamente ai pubblici esercizi. La nostra amministrazione intende dare ulteriore sostegno alle attività economiche fortemente colpite dalla crisi pandemica e dai rincari di energia e delle materie prime determinati dal conflitto in Ucraina. Questa iniziativa, ha proseguito il sindaco, venendo meno il contributo finanziario ad opera del governo, graverà completamente sul bilancio comunale, ma siamo convinti che questo sforzo economico sia doveroso per sostenere le attività, che hanno un grande valore per la comunità, sono costruttori di relazioni e rivestono un ruolo fondamentale per mantenere vivo un paese. E adesso Passaggi Festival, che dopo due giornate a San Costanzo, ieri ha aperto a Fano le mostre, i laboratori e le rassegne specialistiche. Tra gli ospiti è anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi e il giornalista Gaetano Pecoraro. E' stato inaugurato ufficialmente in piazza 20 Settembre a Fano la decima edizione di Passaggi Festival. L'evento offrirà più di 150 proposte culturali, dalle presentazioni di libri protagonisti, dalla colazione fino a tardanotte, ai libri per bambini, dagli aperitivi scientifici alle mostre. Da ieri il centro storico si è trasformato in un grande palcoscenico per dare il via alla manifestazione alla presenza degli amministratori locali e regionali. E' seguito il primo appuntamento con la rassegna Libri in Piazza, protagonista Vittorio Sgarbi, autore di Raffaello, un Dio mortale. Un libro su Raffaello che racconta il mio lungo rapporto con lui, non tanto come critico d'arte, ma in spettacoli fatti a teatro, in cui io raccontavo e facevo intendere perché Raffaello sia così centrale nella nostra vita e nella nostra esperienza. Quindi non è un autore come altri lo sono, non è un pittore, è un uomo che sta al centro della nostra mente con una grande idea dell'Occidente. Quindi rappresenta valori per noi essenziali. Un nome altrettanto popolare è salito alle 21 sul palco del Pincio. Si tratta della cantante Francesca Michelin, che ha presentato Il cuore è un organo, edito da Mondadori. Fuori passaggio è proseguito con Gaetano Pecoraro e il suo Il male non è qui, Matteo Messina Denaro, il romanzo. Ci sono tanti libri di mafia, specialmente in questo momento, non al trentennale, però penso che il mio sia leggermente diverso. La scelta di fare un romanzo, il primo romanzo su Matteo Messina Denaro, risponde a un'esigenza, semplificare molto in modo tale da avvicinare magari anche i giovani, ma tutti quelli che non per forza conoscono tutte queste tematiche così complesse, per poi magari approfondire. Chiaramente tutto questo fatto su una storia come quella di Matteo Messina Denaro, per cui una delle pagine più buie della nostra Repubblica, è un lavoro molto complesso, fatto comunque di analisi di carte, perché si romanza, ma comunque questo romanzo è tratto e ispirato da fatti reali, e soprattutto poi andare nei luoghi, appunto come ti dicevo, e parlare anche con le persone che conoscevano bene quelle vicende. Parlando di Matteo Messina Denaro, questo vuol dire entrare nella sua sfera, per cui per scrivere questo romanzo sono andato anche da loro, dalla famiglia. Quanto tempo ci ha messo? Ma allora, materialmente ci ho messo un anno per raccogliere, per mettermi là e scrivere, però è un lavoro frutto di almeno 6-7 anni di ricerca. Ho messo un pochettino insieme tutto il lavoro fatto in passato, diverse rinchieste che ho fatto per la 7, poi per le Iene, poi per un podcast che ho fatto per Audible, quindi non è ora un tema nuovo. È importantissimo, se vogliamo capire esattamente in quale paese viviamo oggi, non 30 anni fa, capire e avvicinarsi a questo genere di tematiche, perché non bisogna pensare che la storia di Matteo Messina Denaro sia una storia del passato, è una storia di oggi. Il libro racconta alcune vicende di allora che sono strettamente legate ad esempio alla politica di oggi. In Sicilia adesso ci sono due personaggi, Cuffaro e Dell'Utri, che sono tornati alla ribalta. Queste vicende un po' si intrecciano con alcune cose del passato e si trovano alcuni frammenti in questo romanzo. Tra gli appuntamenti da segnalare in programma questa sera è il premio giornalistico Andrea Barbato, in memoria del noto giornalista scomparso nel 1996, che sarà conferito alle ore 22 in piazza 20 Settembre all'inviato di guerra Lorenzo Cremonesi in collegamento video dal Donbass. Il giornalista riceverà il premio da Ivana Monti Barbato e dall'assessore al turismo Eti e Lucarelli. Prima della premiazione Cremonesi presenterà il suo libro Guerra infinita, 40 anni di conflitti rimossi dal Medio Oriente all'Ucraina. Converserà con l'inviato di guerra dell'agenzia ANSA Lorenzo Attianese, rientrato da poco dall'Ucraina, e con Simonetta Fiori, una delle firme più note della pagina culturale di Repubblica. Grande successo lo scorso fine settimana per la sagra Dla Trippa e di Fagioli, che si è svolta a Centinarola di Fano. L'associazione Viviamo Centinarola è riuscita nel suo intento a far rivivere il quartiere con tre giorni di musica, stand gastronomici e iniziative per adulti e bambini al parco di Via Monfalcone. Con il ricavato dell'evento, l'associazione aiuterà la parrocchia di Centinarola e di Rosciano e realizzerà altre iniziative nel quartiere. Si riparte sempre nel parco con gli appuntamenti che si snoderanno dal 28 giugno alla fine di luglio, tutti martedì alle ore 21 con giochi e tanto divertimento per tutti i bambini. Il nostro telegiornale termina qui, vi ricordo che domani mattina alle 7 in diretta Massimo Fughetti condurrà occhio ai giornali. Grazie per averci seguito e arrivederci a domani.